Infermiera! Cosa sta succedendo qui? Niente. Solo quel pazzo. Quale? Qui ce ne sono tanti. La vuole smettere di trattarmi come se fosse una stupida? Io non sono una sua pazienta, capito? È evidente di chi stia parlando, quel Jack di prima, di Pico... Per prima cosa qui nessuno la sta trattando in nessun modo! E poi non accetto che nel mio reparto si utilizzi questo linguaggio! Ma come non me ne frega un cazzo del suo reparto! Voglio solo essere lasciata in pace con la mia amica e chiedere troppo! Non si permetta più! Mi scusi. Mi scusi, hai ragione. Io di solito non mi comporto così. È che quel Jack mi... mi mette ansia. Mi irrita, mi inquieta. L'affascina. Che cosa? Non si dovrà. Mi� nameina, adesso non le dimostbiere!